Dottore Sesti, noi siamo venuti a trovarla perché ci sono alcuni argomenti su cui bisogna riflettere. Il primo di tutti, credo che è quello che sia proprio un segnale di emergenza, i figli che uccidono i genitori. Non è solo l'ultimo caso, ce ne sono tanti andando indietro nel tempo, ma credo che negli ultimi anni è un fatto che avviene spesso. È emulazione o in realtà c'è qualcosa che non va? I figli che uccidono i genitori è una delle patologie della relazione in famiglia. Cioè, accanto ai figli che uccidono i genitori ci sono le coppie in cui il tutto finisce con un omicidio. C'è anche l'impossibilità di staccarsi da persona con le quali si è convissuto un periodo di vita. E poi c'è alla base di tutto una serie di sofferenze, una serie di incapacità forse ad accettare alcune cose. Il problema dell'omicidio in famiglia è quello di fatto che stiamo parlando. È una problematica che risale, diciamo, nella notte dei tempi. Sono cambiate probabilmente alcune dinamiche con le quali queste cose si consumano. L'omicidio del proprio genitore, quindi il parricidio, è una delle cose che si ritrova ancora più datata nel tempo rispetto ad altri omicidi in famiglia. E fino al punto che la psicologia partiva, diciamo che la psicologia classica trae origine proprio dal mito di Edipo, che trae spunto proprio dall'omicidio del proprio genitore. La psicologia prende spunto da questo per raccontare una serie di situazioni che vengono poi, ovviamente, partendo dalla realtà, vengono traslate per dire che l'adolescente nella fase di crescita deve sganciarsi dal genitore e quindi uccidere, tra virgolette, superare la supremazia del genitore nei riguardi del proprio figlio. E purtroppo le cose sono cambiate. Qualcuno ha riscritto la psicologia non più alla luce del mito di Edipo, che si basava sul senso di colpa, sul superamento di una serie di principi che erano assolutamente immodificabili, ma ha riscritto, parlando del mito di Narciso. È cambiato tutto, sono cambiate molte cose. Edipo, diciamo l'adolescente di un tempo, doveva comunque accettare delle regole che venivano comunque imposte dai genitori, che non erano manco scritte dai genitori. I genitori a sua volta le avevano accettate e a queste regole si erano comunque adeguati. Le regole erano immodificabili, si poteva solo rispettare queste regole. E quando si andava oltre queste regole uno sapeva bene che comunque aveva infranto una cosa che era ritenuta comunque giusta. Lei ritiene che questo sia il frutto di una società che è diventata violenta? Beh, che ci sia maggiore violenza espressa anche dal punto di vista proprio fisico, è un dato di fatto. C'è una minore tolleranza probabilmente nei riguardi dell'altro. Si è infranto un tabù, cioè il fatto di poter necessariamente andare a far valere i propri diritti senza tener conto dell'altro come persona. Quello è il problema. Per cui quelli che una volta erano scontri dialettici, erano scontri di opinioni, magari consumate più o meno nel rispetto dei ruoli, ora invece è diventato qualcosa di diverso. Cioè è intollerabile il fatto che qualcuno possa impedirmi di fare qualcosa. E questo trae origine sicuramente da una incapacità di superare le frustrazioni, un'incapacità di far fronte a dei bisogni che uno avverte. Forse perché noi adulti, diciamo, da qualche generazione a questa parte, probabilmente non siamo stati in grado di far crescere nelle generazioni nuove quel bisogno comunque di doversi confrontare con dei bisogni non realizzabili. E quindi quanto ci troviamo ad impattare, quanto il giovane si trova ad impattare, ma anche negli adulti questo accade, con una cosa che non può essere realizzata, lì crolla. Crollano tante cose, per cui chi impedisce la realizzazione di qualcosa diventa automaticamente un ostacolo. Quindi davanti, in certe situazioni, uno non vede quella persona che comunque può fermarti, che ti impedisce di realizzare qualcosa. Vede solamente un muro, un qualcosa che è semplicemente un ostacolo, che in quanto tale deve essere superato. Tanto siamo abituati, purtroppo nella nostra società ci ha abituato che tutto può essere fatto, tutto può essere superato. Non ci sono più tanti tabù e soprattutto non ci sono più tanti limiti. Essendo lei un professionista che conosce la personalità della persona, lei ritiene che quando si commettono questi omicidi, sia omicidi nei confronti dei genitori, sia omicidi nei confronti della compagna, della moglie, eccetera, eccetera, c'è poi un pentimento? O la mente è talmente, diciamo, in qualche modo lontana dalla verità e quindi è nell'oblio? Ma sono cambiate molte cose. Prima facevo riferimento al mito di Edipo, confrontandolo col mito di Narciso. Il Narciso, quindi diciamo le nuove generazioni, Narciso non ha più tanto un senso di colpa, ha un qualcosa che più spesso viene definito un senso di vergogna, che è una cosa un pochettino diversa. Cioè vivere un senso di colpa vuol dire avere dentro comunque l'introiezione di una regola, sapere di averla infranta, e provare un sentimento che è comunque un sentimento nobile, un sentimento che mi porta a confrontarmi, a fare un parallelismo tra quello che avrei dovuto fare, e quindi riconosco che era giusto farlo, e quello che invece purtroppo ho fatto. E in questo confronto ne vengo male, perché so di avere mancato qualcosa che avrei dovuto fare. Il senso di vergogna invece è una cosa diversa. Il senso di vergogna è solo l'esteriorità. Io posso fare quello che voglio, l'importante è che l'altro non lo sappia. E diventa un danno per me se l'altro invece lo viene a sapere. Narciso, non a caso, si arrabbia terribilmente quando l'altro si accorge che ha toppato in qualche cosa. Le furie narcisistiche sono tristemente conosciute, perché Narciso non si ferma davanti a nulla. Pur di ottenere quello che vuole, è disposto a infrangere qualsiasi regola e non la riconosce. Per Narciso l'adulto di riferimento, o comunque chi si frappone tra lui la realizzazione di qualcosa, è semplicemente un ostacolo e l'ostacolo va assolutamente superato. Io posso fare qualsiasi cosa, Narciso può fare qualsiasi cosa, se crea le situazioni tali perché l'altro non lo sappia. E spesso nel fare questo tipo di ragionamento, mancando proprio la consapevolezza di quello che sta realizzando, si arrivano a raggiungere delle feratezze veramente inimmaginabili. Questa violenza che si scatena è una violenza chiaramente che non è controllabile, non è controllata. Ma alla base di tutto c'è un'incapacità a tollerare le frustrazioni, quindi un'incapacità a porre freno ai propri meccanismi di rabbia. E questo porta obiettivamente a tirar fuori delle azioni che un attimo prima la persona stessa non avrebbe mai immaginato di fare. Ma per questo accade alla fine di un lungo percorso in cui il ragazzo o la persona che fa queste cose non ha affatto quel percorso di crescita che lo ha portato progressivamente a modularsi rispetto all'esterno, rispetto agli altri. E soprattutto non ha mai probabilmente maturato la seria convinzione che l'altro è una persona come lui e che è una persona degna quanto lui comunque di rispetto, degna quanto lui ha pure anche lui i suoi desideri, i suoi bisogni e che ci sono comunque delle regole e comunque dei limiti che assolutamente non devono essere superati. E' frutto di una depressione sociale? E' frutto anche di questo vivere sul web, diciamo, il villaggio globale? Ma guarda, io non criminalizzerei questa cosa perché il web, così come tante altre strategie comunque di comunicazione e tanti altri mezzi che permettono comunque di relazionarsi con gli altri, sono degli strumenti. Devono semmai, semmai bisognerebbe fare, creare i presupposti perché questi strumenti vengono utilizzati al meglio. Il problema è un altro, è che accanto al cambiamento del web che sicuramente ha modificato molte abitudini, un po' di tutti, c'è stato un cambiamento della società. Quello che è cambiato è il modo di vedere l'altro, il modo di sentire i propri bisogni e l'impossibilità proprio di procrastinarli. Si è creato quasi un mito, cioè io ho bisogno di qualcosa e devo assolutamente realizzarlo. Se questo non lo tengo, sto male. Ma questo perché? Perché dietro ci sono una serie di tappe che sono state bruciate. Probabilmente chi la pensa in questo modo non è stato abituato a doversi confrontare con una serie di limiti, con una serie di situazioni che potevano realizzarsi, potevano concretizzarsi o altrimenti potevano benissimo non raggiungere a compimento senza che questo modificasse completamente la vita a chi era necessariamente obbligato a fermarsi di fronte a qualcosa. Ci sono dei sintomi che possono essere indicativi di un cambiamento di umore o di una possibilità di vedere con l'adolescente, ma non solo l'adolescente, commettere un omicidio. Non esiste, per il mio, non esiste il soggetto che può essere il soggetto che realizza l'omicidio o meno. Questo può succedere a chiunque. Il problema è creare, fare in modo che il soggetto sia capace di capire davvero quello che sta facendo e soprattutto dare in modo alla persona di capire il senso del limite, capire comunque che c'è la necessità di rispettare l'altro. E sono una serie di messaggi che magari possono essere letti. Cioè, fare attenzione ad esempio il ragazzo eccessivamente impulsivo, la persona che si pone in modo irruento rispetto agli altri, la persona che non considera assolutamente l'altro per quello che sono i suoi bisogni, ma soprattutto che prevarica sistematicamente l'altro. Persone con queste caratteristiche molto probabilmente hanno un'incapacità di vedere nell'altro una persona pari di diritti quanto lui. Per cui una persona con queste caratteristiche ha difficoltà ad accettare ad esempio dei rifiuti. E non accettando rifiuti, se di fronte al rifiuto, cioè a far sì che ci sia un rifiuto, c'è una persona, identifica in quella persona l'ostacolo per la realizzazione di qualcosa può ritenersi autorizzato a fare qualsiasi cosa pur di superare quell'ostacolo. Da te è cambiato il rapporto genitore-figli? Ma sono cambiate tante cose. Certo, in famiglia è cambiato il rapporto genitore-figli. Sono modificate molte cose. Ma sono cambiati diversi altri rapporti ormai nell'ambito sociale. Nella famiglia c'erano dei modelli rigidi, di un tempo in cui c'erano le imposizioni delle regole che derivavano dal capo famiglia che in genere era il papà ufficialmente. Poi di fatto magari la mamma era chi risolveva tutti i problemi nell'ambito della famiglia. Bastava semplicemente che la mamma comunque additasse al ragazzino, comunque indicasse al ragazzino fai attenzione perché questa cosa la dico a papà. Il papà era l'autorità riconosciuta comunque perché molte cose rientrassero. Ora, diciamo che non c'è quell'autorità diciamo intanto da parte del genitore per cui le regole o comunque le cose che si devono fare in famiglia sono patteggiabili. Quindi questa cosa non si deve realizzare. Io tanto se insisto comunque alla fine lo tengo. C'è una doppia debolezza. C'è la debolezza da parte del genitore che non riesce a dare delle regole nel senso che non riesce a far capire al figlio che quella è una regola. La regola è un qualcosa che una volta detta poi alla fine va rispettata. E c'è la debolezza da parte del ragazzo che non è in grado quindi di capire cos'è il senso della regola e quindi capire di fatto poi il senso del limite. In poche parole è finito il mito della famiglia ideale c'è il fallimento di quello che è il valore della famiglia. Sono cambiate molte cose. La famiglia probabilmente ora lavora su nuove regole. Sono tanti cambiamenti che hanno portato necessariamente a modificare quelli che erano i modelli di un tempo che ora sicuramente forse non potevano nemmeno funzionare come erano e andavano sicuramente rivisti. Ma esiste per fortuna la famiglia. Certo la famiglia è un'istituzione salda e continua a svolgere il suo ruolo. Guai a noi se dicessimo oggi che non esiste più la famiglia. Ci sono però dei modelli che assolutamente vanno rivisti. Bisogna riappropriarsi di quelle regole che comunque hanno sempre funzionato. Probabilmente vanno modificate nel tempo. Sicuramente molte cose vanno cambiate. Ma il genitore in quanto tale deve riappropriarsi della possibilità di dire la sua rispetto a quello che accade in famiglia e soprattutto fare in modo che il figlio abbia il concreto diritto di trovarsi accanto dei genitori che facciano capire il senso della famiglia. Perché tutto dipende fondamentalmente da questo. Il fatto che in Italia non ci sia la certezza di pena permette a questi ragazzi in qualche modo di essere giustificati di poter in qualche modo tornare presto a una vita normale e quindi di poter scrollare dalle proprie spalle quello che è il dramma che hanno vissuto e che hanno fatto vivere alla famiglia. Ma questo è un discorso generale. Non è riferito solo a questo atto efferato. Purtroppo che in Italia non esiste la certezza della pena purtroppo lo si sa da tempo e non credo che sia questo diciamo il motivo principale per cui si arrivi a queste situazioni. Tanti altri reati probabilmente sono realmente legati alla mancata alla concreta consapevolezza che esiste un diritto a dover rispondere di un reato commesso. Questo è vero. La certezza della pena effettivamente in Italia non c'è. Ma non credo che per questi reati in particolare il fatto della mancanza di questa consapevolezza possa portare ad un incremento del reato in quanto tale. Quello che c'è alla base di questi fatti reati così afferati c'è una struttura di una persona che fondamentalmente ha mancato diverse tappe. Non è stato capace di crescere nel sano rispetto della propria persona e dell'altro. e il fatto che si arrivi a quell'atto efferato è il culmene di un percorso. Per fortuna non accade sempre così ma purtroppo in tante famiglie accadono una serie di altri episodi che non arrivano a quegli eventi lì ma che arrivano a scontri di un certo peso e che alcune volte solo per fortuite circostanze non culminano in fatti ancora più gravi e proprio bisognerebbe lavorare quindi sicuramente per far sì che crescono alcune competenze perché si possano creare veramente alcuni ruoli diversi che funzionano maggiormente ma strutturalmente bisogna fare qualcosa che rinforzi un po' il concetto stesso di famiglia lavorando proprio su... partendo dai giovani perché sono loro che faranno le famiglie nuove creando la consapevolezza del rispetto dell'altro perché tutto parte da lì cioè se io so che di fronte a me c'è una persona che come me ha i miei stessi diritti e come me ha i miei stessi problemi e lo vedo come appunto come me stesso io ho la possibilità di confrontarmi con lui in modo diverso rispetto al vederlo semplicemente come un semplice ostacolo e questo potrebbe limitare sicuramente limiterebbe molti problematiche Ancora una domanda ed è questa c'è bisogno di percorsi di accompagnamento per questi giovani e soprattutto quando nella famiglia non c'è un clima sereno è il caso di ricorrere dagli specialisti per fare in modo che questi giovani possano ritrovare la serenità e soprattutto riprendere con consapevolezza che il padre non è nemico del figlio che la mamma non è la nemica da combattere e quindi ristabilire nel rapporto di amore un rapporto di rispetto reciproco Sì, bisogna partire sin da subito c'è una formazione, la formazione deve partire proprio su quelli che sono i capisaldi dell'affettività cioè fare in modo che ci sia la base dei rapporti non solo familiari ma proprio dei rapporti la possibilità di vedere l'altro come me stesso insomma muoverci in questo ambito è chiaro, nelle situazioni in cui già si sono potuti cominciare ad evidenziare alcune distorsioni della comunicazione o comunque sono già comparse dei comportamenti problematici lì bisogna muoversi perché questi problemi rientrano quindi lì a quel punto è necessario che ci siano prese intanto di presa d'atto del problema quindi far crescere la consapevolezza che le cose così non vanno e fare in modo da intraprendere un percorso di recupero della relazione e comunque di cambiamento di molti atteggiamenti che sono sicuramente disfunzionali quello che accade in famiglia molto probabilmente accadrà anche fuori cioè le persone che sono violente in ambito familiare sicuramente adotteranno modelli simili anche fuori dalla famiglia per cui ad esempio già vedendo alcuni comportamenti di alcuni ragazzini a scuola si possono cominciare ad evidenziare alcune problematiche e forse da un rapporto un pochettino più maturo tra varie istituzioni e famiglia potrebbero venire fuori magari dei programmi veri e propri di crescita sociale perché di questo si parla perché poi evitando intervenendo da subito su queste cose migliora non solo la famiglia ma poi alla fine migliora l'intera società sicuramente ci sono difficoltà di comunicazione spesso tra le varie istituzioni ad esempio c'è un'intolleranza ad esempio della famiglia rispetto ad alcune presi di posizione della scuola perché forse la scuola stessa è diventata poco credibile rispetto ad alcuni interventi che possono essere fatti ma del resto sono all'ordine del giorno anche molte situazioni in cui la segnalazione della scuola da parte di alcuni comportamenti disfunzionali del ragazzino vengono colte dalla famiglia come una critica feroce nei riguardi del ruolo stesso della famiglia quello impedisce magari la comunicazione per cui impedisce poi di fatto una presa ad atto del problema e quindi un qualsiasi programma atto ad affrontare la problematica e quando la famiglia poi si muove in questo modo dando ragione in tutto e per tutto al proprio ragazzo rispetto a comportamenti veramente problematici lì poi crolla tutto perché il ragazzo ha la chiara consapevolezza che comunque può fare quello che vuole perché comunque accanto ci sarà sempre una famiglia disposta a difenderlo su tutto a spada tratta e lì Narciso prende corpo ancora di più e alla fine diventa veramente sa che può fare qualsiasi cosa e nulla lo può fermare grazie a tutti